Siamo arrivati ad oltre il 91% degli ospiti vaccinati nelle 37 RSA che sono nel territorio della ASL Toscana Sud-Est, quindi Arezzo, Siena e Grosseto. Nell'intera ASL Sud-Est sono già state vaccinate 1174 persone. Abbiamo rispettato il programma che ci aveva indicato la Regione Toscana, dichiara Simona Dei, direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est, ovvero quello di somministrare circa 300 vaccini al giorno nelle nostre RSA. In questo lavoro sono state impegnate 42 squadre USCA di tutta l'area vasta coadiuvate dai medici delle cure primarie, 17 ad Arezzo, 13 a Grosseto e 12 a Siena. La cosa più importante, prosegue Simona Dei, che vorremmo evidenziare è che ad oggi non si registrano problemi per nessuno dei vaccinati. Le motivazioni di coloro che invece non hanno fatto il vaccino, dichiara Lia Simonetti, direttore dei servizi sociosanitari dell'ASL, sono molteplici. Alcuni perché avevano effettuato la vaccinazione anti-influenzale da meno di due settimane, altri perché in questo momento sono ricoverati, altri ancora perché sono positivi al Covid o perché erano presenti dei sintomi che hanno consigliato di attendere. Il lavoro di vaccinazione proseguirà senza sosta, dichiara ancora la Simonetti, anche nei prossimi giorni, fino a coprire tutte le 98 RSA presenti nel nostro territorio.